Ciao a tutti, io sono Cristian Confalonieri e sono qua per parlarvi dell'evento che terrò il 7 ottobre ad Anima, che si intitola Il potere del tuo nome e la numerologia. Questo evento è per tutte le persone che si interessano ai temi di spiritualità e che amano porsi delle domande. In questo evento andremo a vedere il potere del tuo nome in senso energetico, ovvero come il tuo nome ti aiuta a plasmare la tua realtà, come attraverso il tuo nome vieni riconosciuto dal mondo e dalle altre persone, quindi di come è importante essere sintonizzati su questa frequenza per essere in armonia con il nostro animo, perché noi dentro ci portiamo delle frequenze con cui è bene che siamo in armonia, per non crearci delle vite disequilibrate. Tutto questo lo faremo attraverso la numerologia, quindi una scienza che ci permette di tradurre i valori letterali del nome in valori numerici per ottenere delle energie archetipiche di cui andremo a parlare durante la serata. Inoltre vi mostrerò anche come attraverso la numerologia è possibile migliorare la propria vita e scoprire varie forme di energia che si trovano nei vari ambiti della nostra vita e andare così ad avere una mappatura di tutta la nostra vita e anche eventualmente della linea temporale della nostra vita per comprendere meglio queste energie che ci girano attorno e andare a gestirle meglio. Io ti saluto e ti aspetto all'evento del 7 ottobre alle 19. Ciao!